mi sembra arrivato il momento di parlarvi finalmente di xevio io che è un quadriciclo elettrico pesante tra l'altro guidabile anche da adolescenti e che tutti guardano così vabbè io non posso neanche dire vediamocelo a quattro occhi perché quattro già ce li ha lui è carina perché l'aspetto è molto futuristico e esce un po' da quei canoni stilistici classici anche dei quadricicli che già vediamo ampiamente sul mercato anche con motore tradizionale a combustione interna ricordiamo che questa è una full electric ed ha dei tratti molto molto personali lo si vede per esempio dal design dei fari anteriori degli stop posteriori questa alternanza di colori tra la carrozzeria i pannelli di plastica ma come per esempio il portellone del bagagliaio dietro che è una sorta di effetto tutto vetro poi tra l'altro ci sono anche delle cose abbastanza curiose e d'auto tra virgolette tradizionale d'auto grande no che fanno anche apprezzare ancora di più questo genere di quadriciclo perché sia in termini di sicurezza sia in termini di appeal design ovviamente il passo è differente rispetto ad altre proposte del mercato alla fine sapete in in un contesto urbano che è sempre più complicato ztl sempre un po più sparse no sul soprattutto nelle grandi città e avere una macchina di 2 metri e 53 che poi ti aiuta anche nello spazio e via discorrendo in tutti i parcheggi è un asso nella manica notevole ed è questo il diciamo questa la grande freccia all'arco dei quadricicli pesanti che ormai hanno da anni preso no la loro fetta di mercato passando all'interno anche si trovano le stesse linee no che troviamo all'esterno questa alternanza di colori seppur nelle plastiche poi ovviamente la macchina ai due posti ci sono questi pannelli di vetro nella parte superiore del tetto che danno un po' di illuminazione sia nell'abitacolo sia però non rinunciano a una sorta di rigidimento del telaio perché al centro il pannello invece è continuo c'è il display 7 pollici per la strumentazione a fianco al quale invece c'è un portacellulare che è di tipo meccanico nel senso che voi andate a mettere il telefono viene mantenuto e c'è anche una presa di ricarica usb non troppo distante in modo tale che lo potete utilizzare come navigatore come magari sorgente audio per sfruttare l'impianto audio interno della macchina ma al contempo lo mantenete sotto carica e questa è una cosa molto interessante e fa parte di quei dettagli che sono quello che vi dicevo prima ad auto grande per esempio nel bracciolo centrale anzi sotto al bracciolo centrale abbiamo anche altre due prese di ricarica usb quindi oltre ovviamente a un po' di spazio dedicato a qualche oggetto che potete metterci il portafogli o qualche altra cosa perché magari non dico il telefono perché tanto avete il portatelefono dedicato quello che è curioso della Xevioio è che nonostante sia un quadriciclo ha l'aria condizionata, ha il climatizzatore, ha il riscaldamento, ha gli alzacristalli elettrici ha i vetri che si regolano elettricamente cioè queste sono tutte cose che magari normalmente non ci si aspetterebbe da un mezzo di questo segmento mentre invece Xevo è voluta entrare a gamba tesa e l'ha fatto di fatto con stile e soprattutto riuscendo ad offrire queste coccole perché alla fine io le voglio chiamare in questo in questo modo un 16enne ma non solo i 16 anni secondo me questa non è un'auto che si approccia solo al pubblico dei 16 anni ma anche a un pubblico più adulto che vuole girare in città veramente senza problemi, portando una persona o magari andando a fare la spesa avendo una necessità di spostamento non particolarmente elevata ma magari avendo dei problemi di parcheggio, questa probabilmente è l'auto ideale e passiamo quindi alla guida, allora abbiamo parlato del fatto che Yoyo è un quadriciclo completamente elettrico ha un solo motore da 15 cavalli messo all'asse posteriore, la manopola al centro è il selettore delle posizioni di guida con la possibilità di selezionare R, N, D ed S allora il freno a mano è diciamo a piede, non è più un freno a mano di tipo tradizionale ma è un pedale sulla sinistra quindi lo andate a schiacciare, ad attivare, ad armare con la gamba sinistra lo andate sia ad attivare che a disattivare ed è di tipo meccanico mentre invece quando andate a selezionare drive la macchina comincia a camminare e va in avanti fino al massimo di circa 60 km orari se si vuole raggiungere poi gli 80 km orari che è la velocità massima alla fine di questo quadriciclo invece andate a selezionare i sport che vi dà anche un po' quello spunto in più, chiaramente la batteria è un po' penalizzata da questa cosa se mettete in sport qualsiasi auto elettrica, ma voglio dire anche con lo sport delle auto tradizionali a benzina si comincia a consumare di più quindi non è nulla di strano oppure non è nessun contro dell'elettrico, anzi in realtà è una cosa normalissima avete uno spunto maggiore che vi può servire magari in salita se siete in due persone o in generale se vi volete anche tra virgolette divertire un poco di più la batteria è da 10,3 kWh, si carica grosso modo a casa dal 20 all'80% in circa 4 ore che onestamente non è nemmeno poco anche perché la batteria nella sua interezza permette un dichiarato di 150 km di autonomia il che significa tantissima strada da fare in città voi non avete idea 150 km come è complicato riuscirle a fare in una sola giornata in città quindi alla fine tranquillamente tornate a casa, avete ancora secondo me tantissima autonomia a disposizione e la mettete sotto carica per il giorno dopo, quindi non vi dovete limitare in alcun modo poi anche alla guida voglio parlarvi di sicurezza perché non è banale il fatto che una macchina del genere abbia l'ABS cioè questa non è una cavolata, anzi secondo me è da prendere sempre maggiormente in considerazione anche per questo genere di quadricicli l'utilizzo, la concezione e la presenza di sistemi o di assistenza alla guida o di sicurezza come l'ABS l'unica cosa è che lo sterzo non è servo assistito però non risulta particolarmente pesante il mio consiglio è di fare le manovre girando il volante non da fermo ma cercando di essere leggermente in movimento in modo tale che è sicuramente meno pesante di quanto potrebbe risultare a macchina ferma nonostante questa sia leggera, quindi voglio dire non è comunque di base un problema detto questo allora, veramente divertentissima io ne sono estremamente soddisfatto e diciamo tanto di cappello al fatto che vengono sviluppate e vengano proposte soluzioni di mobilità urbana del genere detto questo appuntamento al prossimo video ci vediamo e ricordate di iscrivervi al canale ciao